...le pareti e fa un'unica stanza da 100 metri. E si è ripagato stato tranquillamente il lavoro. Per la prontezza d'animo. Certo. Nel vostro mestiere ci muore iniziativa. Bisogna sapere anche uscire dagli schemi. Cogliere il momento, cogliere la vocazione e... Non perdersi mai l'animo quando arrivano delle richieste che sembrano il possibile soddisfatto. Addirittura Blesi, che costruisce improprio, per soffrire alla mancanza di imposti letto, costruisce improprio una catena di addirittura. E qua, come diceva il professor Giorgione prima, è interessante perché Blesi d'aveva un concetto di turismo in Sardegna che non era legato al mare, ma era legato alla scoperta di tutta l'isola, di tutto il territorio regionale, tant'è che loro costruiscono. Certo, sul mare, Cagliari, Aghiero, la Maddalena, Santa Teresa, però poi, a Nuoro, l'hotel di Nero, sul Mondio Ottobre, l'hotel di Nero, c'è ancora da mano. Non è più esita. A Villa Cidro, a Tonara, a Sant'Ursorgio, a Sovra, tutti i posti nell'interno della Sardegna. Quindi, non solo sul mare, ma diffusi anche all'interno, su tutto il territorio. Tra l'altro, in siti, che nessuno poteva pensare che fossero, a parte quelli sul mare, agli altri, ma fai un albergo a Sant'Ursorgio. Lì vicino, c'erano le fonti di San Leonardo, le Siete Fuentes, quindi si pensava che fosse comunque un posto che attraeva il turismo. Oggi, se provi a fare questa proposta, qui ti guardano un po' strano, perché ormai ci siamo abituati all'idea che la vacanza si fa solo in mare. Questo è l'esito di tempi. E quindi veniamo a questo libro da cui è nato lo spunto e questa chiacchierata. L'ha scritto questo signore Bruno Mura raccontando proprio negli anni 50-60 quando lui andava in giro assieme a degli altri ora vediamo chi che sono stati i primi i precursori come abbiamo detto prima del turismo cioè quelli che sono stati i primi non solo a pensare che costruire un albergo o costruire un ristorante poteva essere un affare quando nessuno sapeva cosa fosse il turismo e non credeva che la gente andasse di posto ma soprattutto hanno avuto il merito di costruire queste cose in posti che nessuno avrebbe mai pensato che potessero attirare che potessero attirare nella prefazione del libro dice che questi piotieri si muovevano tra una fiera e l'altra con le valigie piene di opuscoli ma anche bottiglie di neppette di carmonau o forme di pecorino perché andavano e pubblicizzavano se stessi contemporaneamente pubblicizzavano la sardegna con le sue diversità con il vino con il pecorino con questo loro modo anche molto artigianale molto popolare molto però spontaneo di stringere una mano o di o di quindi e anche con tanto coraggio e tante speranze il neppette lo conoscete? mi approfitto per dire che il dottor Berrigaia fa anche le lezioni in cui racconta di quando il vade d'annunzio conobbe il neppette e si prese una colossale spronza senza averlo anzi qui c'è qui c'è un mistero perché te la racconto l'annunzio già aveva 19 anni due suoi amici anche loro giovani giornalisti 21 anni 22 anni vengono incaricati di andare di venire in sardegna a scrivere degli articoli sul banditismo e mentre stanno andando alla stazione incontrano lui vestito di bianco che passeggiava lì nella strada di Roma lo invitano sulla carrozza per andare alla stazione poi lo invitano a compagni essere accompagnati fino a Cività Vecchia prendendo la nave e poi gli fanno il biglietto e se lo tornano appresso anche sulla nave questo qua vestito con questo vestitino di Roma Grazie a tutti.